Novena alla Divina Misericordia Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Terzo giorno, Domenica di Pasqua Parole di Nostro Signore Oggi portami tutte le anime fedeli e pie, immergile nell'oceano della mia misericordia. Queste anime mi hanno confortato sulla via del Calvario. Esse erano una goccia di consolazione in mezzo a un oceano di amarezze. Misericordiosissimo Gesù, che concedi emondantemente le Tue grazie a tutti gli uomini, accogli nel Tuo cuore infinitamente buono. Tutti cristiani fedeli, e non permettere che ne escono mai più, te lo chiediamo per il Tuo profondo amore verso il Padre Celeste. Ricevi tutti nel Tuo cuore compassionevole, e non respingere mai nessuno. Te lo chiediamo per l'amore che Ti unisce al Padre e allo Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga al Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie al Signore, è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Eterno Padre, volgi il Tuo sguardo di misericordia sull'umanità intera, specialmente sui peccatori, la cui unica speranza è il Tuo cuore pietoso. Per la Sua dolorosa passione dimostra la Tua misericordia, affinché noi possiamo insieme eternamente lodare la Tua potenza. Amen. Amen. In nome del Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Amen. Gesù, Tu sei appena morto, è già una sorgente di vita sgorgata per le anime. O sorgente di vita incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue e acqua che scatulite dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in voi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno resuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del Tuo delettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del Tuo delettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del Tuo delettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del Tuo delettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del Tuo delettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte e Santo Immortale, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte e Santo Immortale, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Dio, Padre misericordioso, che ha dirato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'ha riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chilati su di noi, peccatori. Rissana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male. Fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio Uno e Trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Lo sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Coroncina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, tu sei appena morto e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime. O sorgente di vita e incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue e acqua che scaturite dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in voi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno le suscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vidi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la Comunione dei Santi.